Salve dall'Associazione Italiana Sommelier. Siamo a Borgo Ratto Mormorolo, nel cuore dell'Oltre Popavese. Siamo in una bellissima vigna di pino nero dell'azienda agricola Rebolini. Siamo qui per presentare un nuovo prodotto dell'azienda, un'Oltre Popavese metodo classico Croisè. Croisè cosa significa? Significa che è stato ottenuto mediante una veloce fermentazione impressa di 24 ore e le uve sono state selezionate e vendemmiate a mano e riposte in cassette di legno rigorosamente. Andiamo un attimo a vedere il bicchiere e cosa ci racconta. Il vino si presenta con un bellissimo colore rosa, rosa buccia di cipolla, e un perlage fitto e persistente. Al naso piccoli frutti di bosco esaltano su una componente fragrante di crosta di pane. Mettendolo in bocca. Il vino evidenzia la sua struttura, la sua forza, una lunga persistenza che ben si sposa con preparazioni elaborate, umidi di pesce, carne bianca in generale, mi vengono in mente delle quaglie sfumate con il vino bianco. Un vino che in calici leggermente più ampi valorizza la sua grande struttura. Un vino che in calici leggermente più ampi valorizza il vino bianco. Un vino che in calici leggermente più ampi valorizza la sua armatura.